non ho il tappetino abbastanza lungo io non ho il cazzo abbastanza lungo vai alza guarda che mi metto dritto madonna lo stai rovesciando l'ho visto vai vai no aspetta ti do una spinta anch'io un'ultima aspetta aspetta che alzo questo che se non serve non fa il culo ci allontana e basta questo ok vai rap andiamo andiamo aspetta che faccio una foto aspetta nooo aspetta che fermo stai fermo nooo mi cazzo ci mette vado eh resta fermo così eh nooo io ti voglio portare a giro qua finisce male gippo nooo no 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 aspetta guarda get rech di che dire abbassa qualcosa abbassa eeeh nascialo nooo ahahahahah aiuto aspetta porca puttana guarda come si cosa lentamente guardalo aspetta ok aiuto ok vorrei metterlo meglio ahhhh il problema adesso cioè se tu mi mettessi quello la sopra a questi due io con i lacci lo terrei fermo e non avrebbe problema proviamo ma non so se arrivi così tanto a questo è tutto materiale per video questo non so se ci arrivi così tanto a è una sfida questa Raffa mi sa dire su un gradino io ci arrivo altissimo cioè supero la mia testa di altezza guarda guarda quanto vado alto guarda quanto vado alto piegalo in avanti così cade da solo no 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 piegalo davanti così cade giù così ok ok dai so che lo vuoi è oddio mi piega pure quindi vado storto nooo aspetta ti rimetto in posto se lo metti bilanciato se lo metti è tutto bene è tutto bene raffa spingi spingi non mi posso più muovere come no? nooo che cazzo vuol dire che non puoi più muoverti? che non mi posso più muovere sono bloccato nooo cosa è successo mi spingo lì indietro nooo chi fa per sei fa per tre ok ora ecco però è rimasto qui il laggeggio per alzare dai attento non rimetterti nello stesso punto che ti uccido aspetta però se io ho scelto dalla macchina e la riemposto no che torna non credo provo vai alza e lascia vai in retromarcia vai in retromarcia inclina inclina ok ora vai in retro non dovrebbe aspetta aspetta te le spingo io fermo no 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 ok allora aspetta che la metto scusami non ti avevo ancora visto stavo pensando ai cazzi miei ehi ha ii ha iii ha iii ha ah ma cazzo che bello che è questo gioco vale tutti i soldi si iii ha Perché vedi sei in mezzo non mi fa rimanere centrato e quindi bravo il peso Aspetta prendiamo l'aria E cosa è successo? Che cavolo! Mi capisci Mi sento male Tutto bene? Tutto bene che qui finisce bene